Fabrizio Donato, campione di salto del triplo qui a Roma e al premio simpatia del Campidoglio Buonasera Buonasera, buonasera a tutti Abbiamo visto in sala anche il presidente del CONI Malagò Ci dicevi Franco che tra poche settimane ci sarà il Golden Gala dell'Atletica qui a Roma Sì, giovedì 5 giugno ci sarà il Golden Gala, il Golden Gala Pietro Bennea Dove parteciperò ovviamente, vi aspetto tutti i numerosi nella tribuna Tevere Perché la pedana è il satto triplo ovviamente nella parte della tribuna Tevere Per tifarmi e per incoraggiarmi Qual è il tuo record? Il mio record è 17,60 che è il tuo record italiano Perché non cercare di migliorarlo? Magari il record mondiale, europeo forse, italiano forse L'italiano è già mio, quello mondiale europeo è lo stesso Ah, anche il tuo? No, no, non è mio, non è mio, è di Jonathan Edwards, un inglese Qual è la tua portata, quello europeo? Ma quello europeo è lo stesso del record del mondo Quindi è difficile È difficile Però quello italiano Quello italiano è già nostro Lo stai difendendo bene E si può migliorare Tu gareggi per le Chiamme gialle Chiamme gialle E insomma, quindi per le Olimpiadi quanto mancano due anni, giusto? Sì, mancano due anni Io ho già partecipato a quattro Olimpiadi, di cui il bronzo a Londra È ancora un po' lunga, io sono un pochino avanti con l'età, non sono più giovanissimo Ma sono ancora competitivo Andiamo avanti anno per anno e chissà, Rio è una bella città Ah, quindi anche le Olimpiadi in Brasile, a Rio, ti ringraziamo Quindi tutti al Golden Gala, rivediamo il giorno al Stadio Olimpico Giovedì 5 giugno, Roma, Golden Gala La sera, giusto? La sera, sì, la sera Sì, più o meno 23 Grazie, complimenti anche per la simpatia Grazie, gentilissimo, grazie